Ciao a tutti! In questo video vedremo come realizzare un grazioso orsetto utilizzando semplicemente un asciugamano. Io ne ho scelto uno di color marrone, ma potete usarne tranquillamente uno grigio, bianco o come volete. Poi ci serviranno anche degli elastici per capelli e un nastro per fare un fiocchetto. Per prima cosa apriamo la nostra salvietta e la dividiamo come se fosse in tre parti. Riapriamo l'ultima parte e ora cominciamo a rotolare dal basso fino a metà salvietta. Una volta a metà la giriamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ora prendiamo la nostra salvietta e la giriamo con le aperture verso il basso. Successivamente prendiamo la parte che sarà quella delle gambe e la giriamo leggermente. Questo procedimento è più facile farsi che adirsi. Ora leghiamo la testa con il nostro elastico e cerchiamo di sistemare dando la forma dell'orsetto. Ora prendiamo altri due elastici, questa volta più piccoli, e li usiamo per fare le orecchie. Sistemiamo come più ci piace la nostra salvietta fino a quando non ci soddisferà. Dopodiché prendiamo il nostro nastrino e lo utilizziamo per fare un fiocchetto intorno al collo e coprire l'elastica. Ed ecco qui il nostro set. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!